Cioè se dicono è populista, si offende, le piace, calza rispetto a quella che è la sua attività politica come esponente della Lega o no? Non lo so, se uno intende populista perché ascolta la gente, cerca di stare vicino alle esigenze, quelle che le persone vivono tutti i giorni, sì, è la verità. Per cui suono quando dice populista dice questo, è la verità. Per quanto riguarda il lavoro, credo che il lavoro dovrebbe essere sul tavolo non solo dei PD ma di tutti i partiti, di chiunque governa, dagli enti più piccoli a Roma. Perché senza lavoro, quando uno Stato ha dei problemi economici, ha un lavoro che non funziona, traballa tutto. Perché poi c'è il sistema del welfare su cui pesa ovviamente la gente che non ha lavoro che va a saltare. E così poi si hanno gli scontri sociali, si hanno tutti i problemi che sono legati anche all'immigrazione. Per cui questo deve essere fondamentale, ma per farlo non si può affrontare con dei bonus, una tantum, un regalino come dicevate giustamente il studio di 500 euro ai giovani che poco gli servono per crearsi un futuro. Perché giustamente il primo intervento di studio è stato la vera cosa che è cambiata negli ultimi vent'anni probabilmente in Italia. Il fatto che prima uno poteva nascere in un ceto sociale, in una situazione magari disagiata e pensare che studiando, lavorando o comunque affrontando la vita in un certo modo da quella situazione potesse uscire. Ora questo fanno fatica i ragazzi a vederlo. Infatti vanno a cercare magari all'estero una fortuna che poi non trovano perché magari si trovano poi a fare i lavapiatti in Inghilterra. Per cui le tassazioni sulle aziende vanno diminuite, va tutelato il Made in Italy perché noi abbiamo una grande fortuna rispetto a molti altri stati. Noi abbiamo una grande inventiva, grandi prodotti, però vanno tutelati da quello che è una globalizzazione che li sta aggredendo. E poi la costruzione di infrastrutture che rendano competitivi i nostri prodotti perché, dobbiamo dircelo, ci sono molte zone nel nostro territorio. Io penso anche all'Appennino Emiliano dove aziende hanno chiuso perché vendevano prodotti non di alta gamma per cui sono state delocalizzate perché non riuscivano più a essere competitive sul mercato. Il mercato non solamente esterno all'Unione Europea ma anche quell'interno perché pensiamo che ci sono stati all'interno dell'Unione Europea dove comunque l'energia, il costo del lavoro sono molto più bassi. Per cui noi avendo un prodotto che ci mette per arrivare nel mondo del mercato un'ora, due ore di più di un altro, quando si parla di prodotti non di alta gamma ovviamente rimangono fuori dal mercato, perdono la competitività. E bisogna andare a agire su queste cose. Se pensiamo che con i bonus risolviamo il problema non andiamo da nessuna parte.